ehi fra che ora sono fra? cazzo e che fa a quell'altro? vai o chi è ora? pronto? io fratello ballista faccio una lista di tutto quello che ha davanti alla tua lista allora fra come stai? oh bellini allora dove tu sei? oh fra qua t'arri a rio? a rio andoi? io sono sul pezzo sto facendo una per te e non si può sortire bellini? l'ha teso o no? andiamo a fare una per te cazzo? si fa una per te cazzo? si è il nintendo? questa è la wii tu sei rimasto da anni 80 il nintendo? si vai oh io ben preparato mario bros si gioca a mario bros ho anche i due ho i due i due ma quando mario bros si gioca a fortnite eh? si ho che gioca un legno di questo? ma che tu sei impazzato? non posso venire e se l'ha fissato lo so ma se l'ha fissato prima e ora non posso venire eh? ehi io io ti aspetto io ehi fra no e si fa una cosa si gioca online tu attacchi internet e si gioca online capito? si online fra online non c'ho l'abbonamento fra fra oh non c'ho l'abbonamento fra online mi devi fare una ricarica una carica fanno una carica fanno un deca fanno un deca fra che discorsi sono? io non ti pago proprio nulla no no si eh la ricarica la ricarica che? la ricarica ora questo c'ha le ricariche qui il capo c'ha oh accendo un joint fanno un joint oh fra ma quale fra? ma chi è questo fra? ma che dici fra fra? ma chi l'è questo fra? io non lo conosco oh porta due lezioni porta un pacchetto di lezioni se ti vedi qua oh bellini ma che tu sta dicendo? ho fatto una squiccia ho fatto una squiccia ho fatto il link ho postato ho fatto l'asta e ti appunto ho potuto sono scritto su questi tocchi su questi tocchi sono scritto ma ti sei inventato le parole? ma che cavolo dici? ma ti sei rincito sul dico? cioè è il nostro genito giovanile eh è il nostro genito giovanile è il nostro genito giovanile è una segatista a casa guarda fuori chi l'ha visto alle Filippi non so cioè noi siamo in parchino siamo in affarazzi cioè io ho il nintendo mi sento sul riscarbio ma da stamani già ci sei oh bellini andiamo e tu hai 50 anni per gamba anche te e via tu vuoi fare il rap il rappettario e poi non ti venga neanche bene le rime te lo posso dire ma cosa vuoi capire la faccia finita è il piacere di fare il drammatio forse oh sto splittando scurta io guarda il piacere no 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 sai tu sei faceva partita sai tu sei faceva partita dai ragazzi e se l'ha fissato prima e ora non posso venire sì sì però no sono tutti sorti allora vengo io a tavolino no no e si le manda e vengo io a tavolino c'è da andare a fare la scena dai robertone tu parli di te 25 metri viene i 50 se via tutto cresce si le manda si le manda vedrai tu sei un pacco 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 tu fai giovane giovanotto stai accendo un fischione si vuole a Riccione stavo io e Simone si vuole a Dabba Canello si passa ad Artimino e si fighi muovo io che ti devo dire lo sai che Pellini a te il coronavirus ti farebbe anche bene vai vai